ciao a tutti ragazzi e benvenuti io sono red e voglio portarvi oggi una piccola spiegazione su come avere l'emblema caccia di mezzanotte che un emblema che si può droppare soltanto in questi giorni quindi dal 25 di ottobre all'8 di novembre periodo in cui è attiva appunto la festa delle anime perdute e perché vi parlo di questo è un problema perché è un po particolare normalmente gli emblemi si droppano in pvp o comunque facendo delle taglie o delle missioni eccetera questo qui invece è abbastanza particolare perché sarà possibile dropparlo soltanto nelle prove di osiride e ancora non ho ben capito in che modo potrebbe essere che viene dato questo emblema a titolo così casuale nel senso vincendo una partita vi viene dato oppure appunto che venga dato alla quinta vittoria oppure ecco che venga dato arrivando sul faro ma mi sembra un po' ottimista e comunque non credo che tutti abbiano questa possibilità di conseguenza penso che Bungie non abbia pensato di arrivare a quel punto per dare questo emblema dovrebbe essere un emblema droppabile abbastanza facilmente qualcuno che conosco l'ha droppato alla quinta vittoria proprio ieri sera quindi presumo che diciamo l'obiettivo sia quello di arrivare alla quinta vittoria di avere questo emblema è un emblema molto bello mi è piaciuto molto quando l'ho visto è molto particolare e niente potete dropparlo semplicemente adesso cioè fino a che la festa delle anime perdute c'è quando finirà non sarà più possibile quindi questo è il tutto volevo portarvi appunto questa piccola spiegazione per questo emblema e niente che dire ciao a tutti spero che anche se corto il video vi sia servito lasciate un like da Red è tutto alla prossima ciao ovunque passi lasci una scia di morti